L'opera che c'è alle mie spalle, come l'opera che c'è qua di fianco e un'altra ancora che non è in mostra, formano un gruppo in cui si vedono delle copertine di libri che non sono mai esistiti, ingrandite ovviamente, quindi diventano delle specie di gigantografie. La cosa che mi fa piacere notare è che non solo questi libri non esistono così come li vediamo, ma non è un quadro progettato, sembrano costruiti, sembrano delle macchette molto grandi, in realtà sono dei quadri che si sono sviluppati, come altri miei, attraverso dei passaggi, in maniera molto più irrazionale e imprevista di quanto possa sembrare. E qui evidentemente il nucleo è questo nostro quasi errore nazionale, ma allo stesso tempo molto difficile da toccare, diciamo, senza cadere nella retorica. spero di esserci riuscì.